30 giugno 2001, Corte d'Assise di Milano. Del Fozzozzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni condannati all'ergastolo. E poi il 12 marzo 2004, la Corte d'Assise di Appello di Milano assolve Del Fozzozzi e Carlo Maria Maggi per insufficienza di prove. E il 3 maggio 2005, il processo si chiude in Cassazione con la conferma delle assoluzioni degli imputati e l'obbligo, da parte dei parenti delle vittime, del pagamento delle spese processuali. Nessuna giustizia per Piazza Fontana, per la Questura di Milano, per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, il giorno in cui stava parlando Franco Castrezzati. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma. Vengono pure alla luce bombe, armi, fritolo, esplosivi di ogni genere. Ci troviamo dunque di fronte a trame intessute secretamente da chi ha mezzi ed obiettivi precisi. A Milano, al... Nessuna giustizia per la strage sul treno Italicus. Nessun mannante politico per le stagie alla stazione di Bologna e quella sul treno rapido a 9.04. Nessuno ha pagato per gli omicidi di Roberto Franceschi, assassinato dalla polizia la sera del 23 gennaio 1973, davanti all'Università Bocconi di Milano. Non sono stati scoperti i killer di Fausto Tinelli e di Lorenzo Iannucci, detto Giaio, colpiti il 18 marzo del 1978 in via Mancinelli, a Milano. Nessuna giustizia per Pino Pinelli, Saverio Saltarelli, Franco Serantini, Claudio Varalli, Giannino Zibecchi, Piero Bruno, Alceste Campanile, Giorgiana Masi, Walter Rossi, Valerio Verbano e Carlo Giuliani. Centinaia di ragazzi uccisi soltanto per le loro idee.